Ciao a tutti, sono Felfox e questo è un video in cui vi faccio vedere la mia configurazione di DualShock 4 Windows Anche detto DS4 Windows Cos'è DS4 Windows? È un programma che vi permette in due secondi di far andare il controllo della PS4 su PC Con mille funzioni diverse, personalizzabile al massimo, è veramente molto bello E praticamente io mi sono fatto la mia configurazione Questo qua, DS4 Windows, rende il DualShock 4 molto meglio di un controllo Xbox qualunque collegato al computer Prima di tutto perché la batteria è ricaricabile con litio e non ci sono le pile, rotture di palle simili Va senza fili perfettamente con un Bluetooth molto leggero E quindi non va in conflitto con connessioni di casa, con altri dispositivi, niente Gli ho attaccato anche tipo 4 controlli al Bluetooth alla volta e non ho avuto il minimo problema né con la connessione di casa né con i controlli in sé E comunque il programma è velocissimo da inserire, da impostare, basta che lo installate Nel gioco di due secondi è già impostabile tutto, perfetto Bene, allora, 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 vedete che in alto a sinistra ho messo Jack & Exter Il gioco, il primo gioco che ho avuto in mente da provare perché, non so, è quello sempre ideale Bene, ho fatto una configurazione un po' particolare, un po' avanzata, diciamo Non è semplicemente un DualShock 4 che emula un Xbox 360 controller Ma è proprio diventato un DualShock 4 che ha diverse funzionalità Perché posso swappare tra un profilo e l'altro Normalmente si farebbe così, però a me, onestamente, fare così mi fa un po' cagare Cioè, nel senso che, cioè, DualShock 4, DS4 Windows ti permette di farlo Però io ho ideato un modo tutto mio, cioè, che vi permette di farlo velocissimamente Basta prendere PS e un tasto qualunque di quelli che vi spiego Allora, questo qua è il comando base, cioè X si salta Insomma, i tasti sono quelli normali di sempre, analogico ti muovi, i tasti non fa niente Perché in JackDexter non fa niente, normalmente in JackDexter ci usano le armi Ma qui non ci sono le armi Questo qua è il mouse Adesso non so se si vede il mouse che si muove sullo schermo No, perché è probabilmente troppo piccolo Però questo qua è il mouse Adesso faccio vedere proprio direttamente qua Questo qui è il comando default di S4 Windows Questo qua è un mouse Premette qua il tasto sinistro, premette qua il tasto destro Premette velocemente doppio clic, eccetera Bene, allora, questi qua sono state select Bene, nella mia configurazione Allora, il tasto verde qua Se tenete per mutuo vi dice quante batteria è Da una scalinatura tra il rosso e il verde Cioè più è rosso e più è scarico Il mio è arancione, quindi va per lo scaricarsi, diciamo E questa è un'impostazione qua che di base mi pare che ci sia già Comunque in ogni caso glielo ho inserita perché è comoda Prendendo premuto PS e X Si passa alla modalità blu Adesso quello è tutto bianco Però in realtà è blu È la webcam che lo fa diventare bianco Cosa fa la modalità blu? Bene, allora praticamente è il normalissimo Il controllo dell'Xbox 360 è emulato Con la differenza che questi tasti qua Sono due tasti della tastiera Che, vabbè Sui giochi del PC normale magari non sono utilissimi Per un semulatore si possono impostare Tipo questo qua è Carica a stato, salva a stato Cambia modalità video Tante cose, tante funzioni diverse Che possono essere utili Io per esempio lo uso per attivare e disattivare le shade Adesso vi faccio vedere Attivo e disattivo Con questo qua velocizzo l'emulatore E invece così lo lascio lento Cioè lo lascio a velocità normale Che in alcuni giochi andrà veloce Avete visto con la live della cloud È molto comoda Per il resto è normalissimo Poi un'altra impostazione che ho messo E magari meno interessante per alcuni Però per me è molto comoda PlayStation quadrato diventa la metà rosa Cioè viola La metà viola mi trasforma il mouse No, ecco si vede un pochino nella live Ma comunque ve lo faccio vedere anche Con la webcam Il mouse lo posso controllare Con il pad Voi direte quanto è stronzata Quanto è scomodo Però in realtà A dirla tutta È abbastanza comodo Vi spiego il motivo Il motivo è molto semplice Scusate per la poca Per la spartanosità Della mia Registrazione Ma meglio di così Non posso fare Allora Praticamente la cosa comoda È che praticamente Se voi state usando il computer Con un emulatore qua Intanto state gestendo le cose A destra Con Windows E altre cose È molto comodo Perché mettiamo caso Che adesso voglio interrompere la registrazione Vado qua Col mio bel cursore Vedete Non so se si vede Comunque vabbè Vado in ferma registrazione Premo Vabbè in questo caso qua Ho messo L1 R1 R2 Il tasto destro L1 L2 Il tasto sinistro E blocco La registrazione Direttamente Senza dover andare Col mouse A spostare tutto Che In alcuni casi È comodo Per esempio Non per forza In caso di OBS O altre cose simili Ma magari Uno semplicemente Mentre sta giocando Vuole anche Impostare Gestire il computer Direttamente dal divano Dal letto Eccetera Può farlo direttamente così Senza alzare Senza andare a prendere la tastiera Eccetera A me Risulta molto comodo È un'altra differenza Di molti Che magari dicono Che è inutile Ma sinceramente Chi se ne frega E Quest'altra funzione qua È PS più cerchio Ah no Giusto Mi dimenticavo La funzione viola Quella che ho appena fatto vedere Con questo qua Si sale e si scende Dalla In parte che ancora Usavo l'Xinput Vabbè In cui mi sono sbagliato Si sale e si scende Nelle pagine Tipo Come se fosse La lotterina centrale No E boh È comodo Io mi trovo abbastanza bene Poi una modalità cerchio Una modalità rossa A parte che sembra che sia scarico Ma no È semplice una modalità rossa Fa quella fatta Fatta da me Questo qua sarebbe solamente Per i rocchi di macchine È il giroscopio Vedete Io non premo niente E Jack si muove Chiaramente Nei platform Non serve assolutamente A un cazzo Ma nei giochi di corsa È carino Usarlo ogni tanto È simpatico Niente di spettacolare Nel senso Alla fine Mi trovo sempre meglio Con l'analogico Però quando voglio Di fare una cosa strana Voglio di Di giocarmi a qualcosa Che ho già giocato mille volte In modo diverso Questo qua è un modo per Cambiare Tanto lo faccio Ultima funzione Che credo che sia anche La più utile di tutte L3 PS La modalità gialla Cosa fare con la modalità gialla? Questo Io premo Sinistra Destra Su Giù Con il tasto direzionale E questo qua è diventato L'analogico E l'analogico è diventato Questo qua Adesso l'analogico qui non fa niente Quindi non posso mostrarvelo Però Vedete posso muovere Jack Con il D-pad direzionale Il che è una cosa Molto 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 carina Carina perché Non tra Tanto Jack e Dexter Magari no Perché essendo un platform Si gioca meglio con l'analogico Però C'è un sacco di giochi in 2D Stupidi Moderni Che Ti obbligano Ad usare l'analogico Anche se sono giochi 2D Io con questo qua Li frego tutti Premo questo E questo E il mio controller Anche se tu In teoria mi costringeresti A usare l'analogico Anche in ambienti 2D Posso comunque Far andare Nel tuo gioco Lo stesso Anche se In teoria Il game designer è scemo E mi costringeremo A usare l'analogico Detto questo Le funzioni sono finite qua Cioè non è tantissimo Però comunque Metterò i download In descrizione Di tutte queste funzionalità Che ho mostrato Adesso come ho detto Chiaramente La moneta blu È bella Soprattutto perché Questi tasti qua Diventano tasti funzione Diventano tasti Tra virgolette utili Perché tanto Il touchpad qua Sul pc Non usa nessun gioco Lo potreste usare come mouse Ma sinceramente Mentre giochi Usarlo come mouse Non ha tanto senso Infatti qua In questa modalità qua Il touchpad diventa Totalmente Start e select Basta Non fa nient'altro Per il semplice motivo Che sinceramente Non mi Sembra utile Usare su pc Un touchpad così Che nessun gioco lo usa Capito Già su PlayStation 4 Nessun gioco lo usa Figuriamoci Su pc Diventa start Adesso vi faccio vedere E select No select Non ce l'ha Già che l'extra Quanto poi Vabbè Non ce l'ha Vabbè Comunque in ogni caso Questo Non metterai tipo in pausa Con select Mi sento come sono sbagliato lì No no ok Select No mi confondevo con Jack 2 e 3 Vabbè Sono state select Vedete invece questo qua Sono proprio La pressione del mouse Vedete qua Tipo ho disattivato lo schermo intero Premendo due volte E lo riattivo Premendolo di nuovo Questo qua Non mi trovo benissimissimo Anche perché sinceramente I touchpad Mi sono sempre trovato Abbastanza male A utilizzarli Però L'ho lasciato Perché comunque di default In DS4Windows C'è questa funzione Quindi non vedo perché Non lasciarla Per eventuale utilizzo Tanto comunque Alla fine L'uso un pochino anch'io Anche se ci metto tipo Il triplo del tempo Cosa direttamente il mio mouse E ciao E questo è il fatto Quindi ho detto questo Vabbè Metterò i download In descrizione Forse Vedo un po' Come gestire la cosa Per offrire Insomma La configurazione La mia fatta Farla su DS4Windows Comunque È una cosa Di due secondi Veramente L'interfaccia Di DS4Windows È user friendly In maniera Allucinante E vabbè RPG Maker Era per i giochi Nell'PG Maker Che ho fatto in live Non ve lo vedo in dettagli Questo qua è un test Non ve lo do È un test inutile È venuto anche Fatti tanto Abbastanza male E questi qua Sono semplicemente Le varie impostazioni Che vi ho appena mostrato Default è quella verde Digitale e analog Sono gialli Giososcopio è rosso Mouse è rosa E Ptsx Richard Ray Vabbè Il mio nome Ma Voi potete cambiarlo Qualche vi pare Tanto non è che Voi lo userete Per shade Probabilmente È quello blu Se vi interessano Queste impostazioni qua Sono disposto Tranquillamente Da darvele Perché tanto io Boh Se posso aiutare Lo faccio volentieri Poi se Non mi serve a niente Pazienza Saltate il video Non guardatelo E Reffox Alla prossima Ci vediamo Ciao